Questa giornata di formazione rivolta al clero, promossa dall'equipo della formazione permanente del clero e dalla rivista del clero italiano, quale il significato della proposta? Innanzitutto che la formazione del clero passa attraverso anche quello che comunque è la ricchezza anche di una cultura accademica che ci permette di dare qualità, pensiero anche al cammino di formazione dei sacerdoti, soprattutto in questa epoca di cambiamenti, un cambiamento d'epoca. Nello stesso tempo il tema che è stato individuato insieme alla redazione della rivista del clero italiano è stato quello proprio dell'importanza della parola e delle parole. Ci accorgiamo come questa parola di Dio è parola di vita e nello stesso tempo però le nostre parole rischiano di entrare in quella che è un po' la chiacchiera del quotidiano. E allora vogliamo proprio interrogarci su questo, anzitutto per quel recupero di una spiritualità e quindi di appartenenza alla parola, come dice San Paolo. E nello stesso tempo anche però mettere a frutto tutte le nostre capacità anche di dire oggi il Vangelo. Cosa significa fare formazione parlando ovviamente di parole, di parola, di cultura, di ironia? Qual è il senso profondo di un ritrovarsi tra sacerdoti ovviamente? Per riflettere anche sul proprio ministero attraverso queste parole chiave. Se mi fai una domanda sull'ironia dico che abbiamo bisogno di non prenderci troppo sul serio. Chesterton diceva che gli angeli possono volare perché non si prendono troppo sul serio. Ecco, seminatore di parola che fa volare e abbiamo bisogno di non prenderci troppo sul serio. Quindi un affondo sul tema dell'ironia nella Bibbia, la Bibbia è capace di ritornare su se stessa, di sdrammatizzarsi. Abbiamo bisogno di entrare in parole così per affrontare anche l'annuncio della buona novella, no? Anche per non scadere nelle parole ostili, come si dice, proprio qui in Cattolica da molti anni, promuovendo corsi per cercare di arginare queste parole cattive. Anche seminare qualche punto di domanda in più rispetto ai punti esclamativi che sono sempre molto dogmatici, senza possibilità di confronto. E quindi una giornata come questa vuole anche aprire delle domande, no? Aprire dei sentieri, dei percorsi di riflessione. Questo ci fa sempre bene, quindi. Il significato di questa mattinata è come si posiziona la rivista del Clero Italiano che è uno strumento di formazione anche identitario, come dice il termine, del Clero Italiano. Intanto il significato di questa mattinata è andare alla ricerca di una qualità della parola diciamo di cui il nostro cristianesimo sembra avere bisogno, perché la sua testimonianza ha sempre l'ambizione di essere significativa e autorevole anche in questo mondo diciamo in cui le idee sono molte, le interpretazioni sono in conflitto e abbiamo un po' l'impressione diciamo che la parola cristiana si esprime un po' in un dialetto e non sempre sia significativa e allora ci chiediamo che cosa significa anche per noi renderla nuovamente carica di queste qualità. La rivista del Clero lo fa appunto per sua natura, cioè offrire parole che siano significative, autorevoli per interpretare la realtà, per interpretare il presente e per giarci anche un po' di coraggio nel testimoniare anche dentro diciamo le resistenze e le difficoltà. È destinata ovviamente al Clero che è una categoria molto particolare, molto speciale ma la rivista oramai è letta anche da quelle persone che amano la Chiesa e che nella Chiesa hanno scelto di avere anche un ruolo, un compito. Le parole che possono essere come armi ma che possono diventare un modo per promuovere amicizie in questo momento di guerra, di pace, possono diventare un veicolo le parole? Sì, in questo momento sta proprio succedendo che le parole sono come armi, c'è un clima rissoso che subito si accende anche nella Chiesa che ci distrae molto dalle cose fondamentali. Io dico che bisogna accettare di vigilare su questi due punti. Prima la persuasione, loro chiedono la persuasione, certo la persuasione è un antidoto alla violenza e si dice la fede va da questa parte, abbiamo scollinato dall'idea del conquistare a tutti i costi. Però la persuasione è anche una brutta bestia. Come sapevano gli antichi il suo luogo principale, preferito, è il sesso e la politica che quando attraversano la strada della persuasione diventano appunto esperienze di libertà, di ordine ma se la persuasione diventa seduzione, diventa subito violenza, diventa tentativo di padronirsi, di impossessarsi è la fine. Allora l'antidoto secondo me ha la perversione della persuasione e l'ironia. Cioè persuasione è la strada della persuasione ma con una grande ironia nei confronti appunto dei propri diktat, delle proprie convinzioni dure e pure. Ecco un po' di ironia per lasciare lo spazio all'idea che comunque siamo tutti esseri umani e anche il credente è un essere umano che si sforza di piacere a Dio, non semplicemente il rappresentante del suo impero sulla terra. Ma l'ironia nella Bibbia c'è in quantità? Dunque l'ironia nella Bibbia bisogna mettercela noi, come quasi tutto dobbiamo mettere noi nella Bibbia, dobbiamo soprattutto mettere l'amore, la fede per quello che c'è scritto e dobbiamo mettere il nostro sguardo che naturalmente cambia a seconda dell'età, a seconda delle condizioni. L'ironia è un'arma che piace al Signore Dio, è evidente. Lui stesso probabilmente ha sorriso quando ha visto il risultato del suo lavoro, che siamo noi. Ci ha fatto imperfetti e dunque l'imperfezione è la prima benzina dell'ironia perché se tutto andasse bene non ci sarebbe motivo di ridere. Questo non significa che in paradiso non si stia bene, però magari un filo di ironia in più potrebbe aiutare anche lì. L'ironia può aiutare le parole che fanno male, gli scontri sulle barricate? Questo è un tema difficile da affrontare perché il rispetto verso le fedi altrui è fondamentale, per cui bisogna stare molto attenti a non ferire la sensibilità delle persone. È ovvio che chi è molto fanatico, chi non sa guardare l'altro, non sa riconoscerlo, di solito non è armato d'ironia. Quindi l'ironia può essere una bella medicina in generale, ma anche in questa battaglia per, non dico tollerarsi, che è una parola che non mi è mai piaciuta, ma insomma per rispettarsi l'un l'altro.